Rispondi a questa domanda, Mr. Andrew Qual è la parte migliore di te? La gente ha sempre il bisogno di farsi un'idea di chi sei La presunzione di possederti e poterti descrivere Ci sta Ma qual è il limite? E se guardando negli occhi il tuo nemico non vedessi altro che il riflesso di te stesso Che importanza daresti alla volontà del caso? Ci sono molte storie in te e molti risultati che vuoi raggiungere Al di là di quello che potrebbe essere stato un passo falso Dunque rispondi a questa domanda, Mr. Andrew Qual è la parte peggiore di te? Grazie 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 a tutti.